Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 3 Napoli-Salerno per lavori di manutenzione all'interno della Galleria Castello, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava di Tirania e Salerno, verso Salerno, dalle 22 alle 6, sino al 15 novembre. Sulla 16 Napoli-Canosa per lavori di manutenzione alla Galleria Monte Miletto, dal 12 al 14 novembre, ore 22.06, resta chiuso il tratto compreso tra Benevento e Davelino Est, verso Napoli. Sull'accordo di Benevento, fino al 31 dicembre, attivo il restringimento di carreggiata tra le località San Giorgio del Sannio e Castel del Lago, direzione 16 Napoli-Canosa. Sulla statale 18 Varcilentana per lavori, è istituito nel territorio del comune di Futani, il senso unico alternato, mediante impianto semaforico, dall'11 al 15 novembre, dalle 7.30 alle 18.30. Sulla tangenziale di Napoli, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e dispezione del viadotto di Capodichino, è istituita la riduzione di carreggiata tra lo svincolo Capodimonte e la barriera di Capodichino in entrambe le direzioni. Acamir Womersi in Campania, Marina d'Apicia. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania.